Questo progetto ha una pianta di 9 metri per 4 ed è parte dal concetto di non fare una vera stanza o almeno di fare una stanza in cui l'elemento generatore è la circolazione. Quindi la stanza si snoda attraverso un percorso il quale percorso come fosse una fascia serve di volta in volta o una cucina o una libreria o un armadio o una camera da letto o un bagno. Non ci sono altri spazi che sono gli spazi residui e rappresentativi della stanza solita. Tutto è fatto in funzione del movimento come se fosse una metafora degli spazi che noi usiamo fuori dalla casa.